Sono contento anche quest'anno di aver fatto parte, di fare parte della giuria del festival che vedete qui alle mie spalle, Tulipani di Seta Nera, un festival internazionale della cinematografia sociale quindi già il nome dice l'importanza di questo festival, di questi cortometraggi che si occupano di sociale e devo dire che facendo parte di questa giuria da qualche anno, quest'anno mi è pare che la qualità delle opere si è senz'altro alzata, ci sono veramente dei film compiuti, belli, ben fatti, ben recitati e sono sicuro che anche voi li potrete apprezzare e continuare a riflettere sui temi importantissimi che vengono affrontati e che speriamo contribuiscano a fare del nostro mondo un mondo migliore che è un po' diciamo l'obiettivo finale non solo di questo tipo di cinema ma di tutto il cinema. Grazie.